Oroscopo acquario. Intrattabili, bersagliati dalla coppia Luna-Urano. Interiore, garantita da Saturno. Solo a una condizione, però, restarvene fuori casa il più a lungo possibile, in viaggio, in palestra o semplicemente al parco, alla ricerca delle prime gemme e delle prime margherite, timide messaggeri della primavera, nonché sibille dell'amore mamma o non mamma. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex-partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I singli incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Oggi potreste arrivare in ritardo a qualche appuntamento per dei contrattempi. Attenzione a caricare il cellulare, potreste restare senza carica o senza credito. Una telefonta in arrivo, buone notizie e soprattutto piacevoli. Oggi, anche per questo, vi sentirete in grado di affrontare qualunque cosa, compreso. I parenti. Quante volte avete desiderato un momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax, orbene oggi potrebbe essere il giorno adatto per rilassarvi e lasciare fuori la porta alcuni problemi, pronti a partire a tutto sprint domani, freschi e riposati. Un incontro inaspettato vi metterà nostalgia e vi darà rimpianti, cercate di mostrarvi comucno e distaccati. La persona che incontrerete gode se intuisce che voi ci pensate ancora. Non confidate segreti ad amici o parenti se volete che restano tali. Possibili giudizi su di voi a vostra insaputta. Cercate di fare pulizia tra le vostre amicizie. Perché oggi siete particolarmente timidi? Ci sono alcune paure dentro di voi che vanno rimosse. Soprattutto in amore. Meglio scavalcare una montagna che confidare le proprie cose a qualcuno che non merita la nostra fiducia, oggi fate estrema attenzione a non confidarvi con nessuno. Non rimandare ciò che dovresti fare. Mantieni le tue promesse. Sarai molto generoso oggi. Metti del denaro da parte se puoi. E chi ti dice che oggi non sarà una splendida giornata? Dovreste coltivare maggiormente l'ottimismo e capire che ogni giorno va affrontato con il piglio giusto. Sapete benissimo da soli che i soldi non possono comprare la vostra felicità, quindi perché illudersi che delle spese esagerate bastino a farvi passare tristezza o la nostalgia. Quando affrontate certe situazioni dovreste cercare di essere più positivi, altrimenti rischiate di smarrire il vostro vero obiettivo e vedervelo sfuggire di mano. In amore dovrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Splende in cielo una doppietta planetaria nel segno d'acqua vostro amico e buon vicino dei pesci, che ospita oggi il sole e Nettuno. Da segno anticonvenzionale, scansonato, poco portato ai sentimentalismi, vivete la combinazione d'acqua di quest'oggi in maniera un po' distaccata. Mentre tutto intorno a voi vibra di romanticismo, di voglia di tenerezza, vi dedicate alle vostre passioni con lo slancio tipico che vi contraddistingue. In famiglia trovate il modo giusto per venire incontro a un parente in difficoltà. Credo che tu non ti sia mai sentito così carico come in questo periodo, pronto a portare avanti progetti di ogni tipo. Accordi di lavoro e progetti, programmi dovranno essere definiti entro i primi giorni di maggio. Le nuove storie d'amore nascono con persone particolari, che intrigano dal punto di vista mentale, conosciute nell'ambito del lavoro, o in maniera occasionale. Orientatevi su alcune persone in particolare in questa giornata. Osservatele, prendete spunto dai loro atteggiamenti, parlateci e capite come ragionano. Questo vi aiuterà ad avere una visione più chiara di chi vogliate diventare. Sicuramente avete la possibilità di migliorarvi, quindi abbiate cura di cercare persone positive, che ammirate, di cui avete fiducia, o che vi intimoriscano per la loro grande competenza. Sarà anche una domenica di quasi primavera, ma per voi e rimarrà una giornata no, tutto vi indispone, vi innervosisce, vi sorprende in negativo. Naturale con la luna e urano battaglieri in quadratura, in casa si verifica un guasto, il lavandino perde, il computer non funziona e l'auto non parte. Se poi ci aggiungete un litigio familiare ad alto volume, udibile per tutto il circondario, capirete perché oggi non siete in vena, né di ridere, né di folleggiare. Amore ed eros. Frizioni in famiglia e tutto per futili motivi, se poi il contenzioso scoppia mentre siete a cena da mammina o dalla suocera, si salve chi può, forte il rischio che si trasformi nella terza guerra mondiale. Cari Acquario, in amore sarebbe meglio essere prudenti, specialmente se si ha a che fare con qualcuno del toro o del leone. Sul lavoro ci sono tante belle opportunità, valutatele bene. Si prospettano situazioni molto positive, soprattutto per chi di voi brama una vera stabilità sentimentale. Momento favorevole anche per le giovani coppie, un po' di istasi per quelli di lunga durata. La presenza di Mercurio e Saturno nel vostro segno vi stimola alla conquista e all'ardore passionale. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 9 del mese di febbraio, il cielo vi sorride consentendovi di mettere a segno colpi da veri maestri nell'Arsa Mandi. Se siete di gennaio gli astri vi vogliono oggi più pacati. Lavoro e denaro. Voglia di far nulla, soprattutto di sfaccendare in casa, ma se per domani avete qualche bel programma, come una giornata fuori porta o una visita ad amici, oggi vi tocca concentrare tutte le incombenze a doppia velocità e tirare diritto, anche se vi colgono altre voglie, lavatrice e stiro, poi minestrone e sugo da surgelare per la settimana. E non dimenticatevi la spesa, il compito più importante, ma anche il più pesante. Le tue idee sono buone, ma devono essere modificate, sembra che tu stia prendendo in considerazione solo una prospettiva. È il momento di guardare l'altro lato della medaglia e regolare la tua posizione di conseguenza. Svolgete una professione indipendente collegata con l'arte, la comunicazione, la lingua e la parola. Urano, in angolo oggi dissonante potrebbe non farvi sintonizzare come voi avevate pensato inizialmente con le persone con cui siete entrate in contatto. Niente paura, però, il vostro tipico carattere camaleontico vi aiuta a minimizzare i danni e a voltare le situazioni a vostro completo vantaggio in un secondo momento. Benessere. Mal di stomaco d'attenzione non certo per il weekend, caso mai per le giornate pregresse e soprattutto per la settimana che vi aspetta, lunedì non sarà necessario aprire l'agenda, l'avete già scritta in mente, roba da urlo. Resta in sintonia con il tuo corpo, poiché potresti sperimentare una fame insolita o desiderare qualche gusto o spezia inusuale. Segui il tuo istinto e gratifica te stesso, esplora il nuovo. Inoltre, prova ad andare a letto presto stasera. Per lei, oggi ve ne stareste sul divano a poltrire o al massimo in giro a fare shopping. Ma se amate le maratone bisogna allenarsi, come la natura alle soglie della primavera anche voi vi rivettete in pista. Per lui, quello che vi resta sullo stomaco non è la cena in sé, ma la compagnia dei parenti, coi quali siete costretti a relazionarvi diplomaticamente, mentre stasera avreste una gran voglia di tirar loro il piatto sulla testa. Self-control irrinunciabile ma faticoso. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.